In questi giorni a Vittoria Ragusa sembra sia iniziata la mattanza dei lavoratori di due supermercati, circa 80 sono gli operatori del settore a rischio, in preavviso di un ormai prossimo licenziamento. Le due società interessate sono la Boscopiano SRL e l'Eble Dettaglio SRL, tutte e due sotto l'insegna Conad, che hanno deciso di chiudere punti vendita. La beffa, scrive il rappresentante legale di Cobas, sta nel fatto che i lavoratori sono stati chiamati a fare sacrifici rinunciando con appositi contratti di prossimità a parte della retribuzione a parità delle ore. Rispondendo così alla richiesta avanzata dall'azienda di abbassare i costi del personale per superare la crisi aziendale. I lavoratori Cobas e la Boscopiano sono da ieri in presidio davanti i cancelli del supermercato per dimostrare, ancora una volta, la volontà di difendere il diritto al lavoro. Inoltre, sindacati hanno già chiesto alla Direzione Territoriale del Lavoro di Ragusa una convocazione delle parti per contestare le procedure adottate dall'azienda che di fatto starebbero operando, secondo i rappresentanti dei lavoratori, un licenziamento collettivo e non individuale. Conad Sicilia da parte sua sostiene di avere le mani legate sulla complessa vicenda dal momento che sono esclusivamente titolari suddetti dei punti vendita a decidere in assoluta autonomia. In una nota, il Direttore Generale Natale Elia ha ribadito che il gruppo è una cooperativa i cui soci sono imprenditori proprietari dei punti vendita e hanno piena autonomia nella gestione degli stessi e quindi dall'imprenditore proprietario di queste due siccità che dipendono ai lavoratori così come la decisione di mantenere aperto o meno l'attività commerciale. Esprimiamo il nostro disappunto per quanto sta accadendo, conclude il Direttore Generale di Conad, per le modalità con cui la vicenda è stata gestita dagli imprenditori interessati.